un po' a braccetto, scherzavano, si sono dati due baci prima di andare ognuno verso la propria panchina anche se hanno scherzato insieme e hanno detto, anzi l'ha detto Pippo, Carletto, mi ha detto che se vogliamo per questa sera possiamo scambiarci panchina. Abbiamo visto un bello striscione anche di solidarietà per quello che sta succedendo con l'Empire e abbiamo sentito tutto il pubblico chiamare con nome di Cullipari.